L'appuntamento in giardino, seconda edizione, una manifestazione nazionale ideata dall'APCI con il padrocinio del Ministero Beni Culturali, iniziative anche a Salerno e a Casaltiri. E anche quest'anno abbiamo il piacere e anche l'onore di ospitare questa manifestazione che a differenza dell'anno scorso, anche perché un po' più rodati, abbiamo ampliato con dei contenuti particolarmente interessanti che vanno dalla storia della città alla storia dei giardini e con incursioni anche nella musica. Ci sarà infatti anche un passaggio musicale di un simpatico terzetto di jazz. Quest'anno ringraziamo come al solito la soprintendenza che con i suoi funzionari apicali ci ha coinvolto e speriamo di poter essere all'altezza meglio dell'anno scorso. Due giorni, sabato e domenica. Sì, anche quest'anno ci sono queste due giornate. Tra l'altro siamo riusciti a fare questo discorso su due giorni perché abbiamo avuto anche l'intervento e l'aiuto di due importanti associazioni culturali salernitane. Adorea, che è un'associazione nata nel 2012, che si occupa soprattutto di storia della medicina medievale e della scuola medievale salernitana, oltre che avere degli interessi sulla storia locale in generale. E poi c'è anche Ortus Magnus con il suo presidente Clotilde Baccari, che ci illustrerà, vista la sua vicinanza all'aspetto naturalistico, infatti organizza quella manifestazione di maggio sul giardino della Minerva, che contribuirà anche a rendere viva questa due giornate. Ingresso gratuito? È ovvio. Altrimenti verrebbe meno lo spirito, almeno a mio avviso, di questa manifestazione che deve avvicinare la cittadinanza ai determinati luoghi della città, come ad esempio questi giardini, che per ora sono pochi quelli privati ad essere inclusi in questo percorso. Ci auguriamo che questo, tra virgolette, esempio possa servire anche a stimolare altri proprietari, o come mi definisco io, custode, di questi piccoli spazi verdi sconosciuti e che comunque sono presenti in tanti nel centro storico salernitano. Appuntamento in giardino è una manifestazione nazionale dell'APGI con il padrocino del Ministero Beni Culturali. Villa Daiala, il Comune ovviamente ha organizzato una serie di iniziative per l'evento. Sì, noi abbiamo appreso di questa iniziativa con sommo piacere a cui abbiamo subito aderito, mettendo a disposizione nostri ragazzi che lavorano continuamente all'interno del parco, del castello e di tutta la Villa Daiala, per cui l'obiettivo principale nostro è sempre quello di dare maggiore visibilità al nostro territorio e in modo particolare Villa Daiala, visto che risulta essere uno dei gioielli di tutta la regione e se vogliamo andare oltre anche dell'Italia meridionale. L'ingresso non è gratuito, anche perché ci sono, diciamo, la Prologo, non so, una cooperativa che gestisce un po' l'accompagno dei visitatori. Sì, ci sono delle guide organizzate dal Comune, le quali appunto, grazie a questo piccolo contributo, riescono a poter fare quella manutenzione ordinaria giornaliera che ci permette appunto di poter poi aprire il parco di Villa Daiala in queste grandi occasioni.